Salve, bentornati alle video lezioni sulla fusione nucleare a confinamento magnetico. Devo chiedere scusa innanzitutto per il rumore di fondo che si era sentito nei video precedenti dovuti a una sorgente incontrollabile, diciamola così. Credo di avere anche migliorato l'audio in questo nuovo episodio. Inoltre vi devo avvertire che mentre i primi due episodi erano sostanzialmente un'introduzione in cui non avevo ancora neppure grattato la superficie della difficoltà di questo argomento qui si comincerà a vedere un po' invece qualcosa di più matematico e di più tosto ma spero che non perderete l'interesse e continuerete a seguirmi. Quindi abbiamo introdotto negli episodi precedenti la questione del confinamento magnetico nei tokamak e la struttura del campo magnetico e anche in qualche maniera la forma delle superfici magnetiche. Vedremo qui invece in che maniera la forma del campo magnetico influenza il moto delle singole particelle. Ovviamente il plasma è costituito da un gran numero di particelle e ovvio come vedremo in seguito che lo studio del moto delle singole particelle è impossibile richiederebbe una potenza di calcolo infinita tuttavia è importante conoscere quali sono le caratteristiche di questo moto. In particolare ci sono da considerazione il tipo dinamico tre costanti del moto che sono sempre verificate, che sono sempre conservate. L'energia totale, costituita da energia cinetica più energia potenziale elettrostatica il momento magnetico, che è data da questa combinazione m è un ortogonale quadro su 2b ed è una costante del moto molto importante, come vedremo e poi il momento canonico toroidale o messo tra virgolette canonico perché ha le dimensioni fisiche di un momento angolare però per questioni di gergo viene chiamato semplicemente momento, come se fosse un impulso. Di queste tre quantità, quelle che ci serviranno di più sono l'energia e il momento magnetico. Innanzitutto, siccome v è circa costante solitamente anziché il momento magnetico si utilizza questa variabile che è semplicemente una variabile dimensionale che è data in pratica dal rapporto tra il momento magnetico per il campo magnetico diviso l'energia cinetica e si può scrivere anche in termini di questo rapporto tra velocità e campi magnetici. Questo parametro lambda è un indicatore della possibilità di movimento delle particelle all'interno di un campo magnetico come risulterà da quello che segue immediatamente. Innanzitutto, tutte le particelle, quindi indipendentemente dalla loro energia devono soddisfare questo requisito, diciamo questa disuguaglianza tra le quantità quindi mu per il campo magnetico deve essere maggiore dell'energia totale meno l'energia potenziale, ovvero maggiore dell'energia cinetica e quindi questo sostanzialmente segue da questo se noi avessimo che questa disuguaglianza non è verificata potremmo trovarci nella condizione in cui la velocità parallela al quadrato che se andiamo a sostituire, diciamo, se andiamo a utilizzare queste formule si può scrivere in questo modo quindi in termini delle quantità conservate risulterebbe negativa, ma una quantità al quadrato non può essere negativa vorrebbe dire che la velocità parallela è un numero immaginario quindi significa che questa disuguaglianza è soddisfatta per tutte le particelle questo, in termini del parametro lambda dimensionale che abbiamo introdotto significa che lambda è compreso tra 0 e questo rapporto tra B0 e B minimo questo perché appunto B0 su B minimo è massimo tra B0 su B minimo e B0 su B massimo è chiaro, no? Perché B minimo è più piccolo quindi questa disuguaglianza è sempre verificata a questo punto noi sappiamo che B però non è costante perché è una dipendenza da teta l'abbiamo visto nelle lezioni precedenti e in particolare B può assumere, diciamo, tutti i valori compresi tra un valore minimo e un valore massimo il valore minimo è quello assunto sul lato esterno quindi sul lato a basso campo e il B massimo è quello sul lato interno per la scelta dell'angolo poloidale che abbiamo fatto a questo punto, a seconda del valore di lambda che è questo parametro che abbiamo introdotto le particelle nel tokamak si possono suddividere in due classi quelle che vengono dette circolanti o a volte anche passanti sono quelle che soddisfano questa disuguaglianza quindi lambda è compreso tra 0 e B0 su B max invece le particelle intrappolate sono quelle che stanno nella stretta fascia diciamo, tra B0 su B max e B0 su B min ho detto stretta fascia perché nelle lezioni precedenti abbiamo visto che i due valori B max e B min sono separate sostanzialmente da una quantità che è 2 epsilon di ordine 2 epsilon ed epsilon è piccolo per quello che abbiamo detto tuttavia questo fatto implica che ci sia una classe di particelle che ha una dinamica diversa adesso vedremo in seguito cosa significa ma intanto vi anticipo che la dinamica si distingue per le due classi di particelle per quanto riguarda il tipo di orbite che possono compiere in particolare le particelle dette circolanti possono effettuare dei transiti completi intorno all'asse magnetico questo il punto che ho disegnato è il centro della camera toridale se questo è l'asse di simmetria Z quindi questo è il lato interno e questo è il lato esterno invece le particelle intrappolate rimangono appunto intrappolate quindi limitate a orbite che si mantengono solo sul lato esterno data la forma vagamente a banana appunto o a falce di luna queste vengono dette orbite a banana quindi l'ultimo coincetto che abbiamo introdotto era quello della suddivisione delle particelle in due classi tra particelle circolanti e particelle intrappolate che era determinato dalle disuguaglianze riguardanti quel parametro lambda ora nel limite di large aspect ratio quindi grande rapporto d'aspetto il campo magnetico dipende da teta e nella maniera che avevamo visto quindi come 1 meno epsilon per cosino di teta e quindi oscilla tra stanzialmente b0 per 1 più epsilon e b0 per 1 meno epsilon quindi le disuguaglianze sul parametro lambda si traducono in questa quindi le particelle circolanti hanno un lambda compreso tra 0 e 1 meno epsilon e quelle intrappolate stanno nella stretta fascia compresa tra 1 meno epsilon e 1 più epsilon e questo ci torna utile per fare poi i calcoli su quantità che riguardano ciascuna delle due classi di particelle intanto per darvi un senso fisico di quello che significa essere confinate nel lato esterno del tokamak la forza che agisce su queste particelle è la forza dovuta al gradiente di b quindi è una forza parallela ed è proporzionale al momento magnetico questo è giusto per darvi così una rinfrescata di fisica fondamentale adesso per esprimere una quantità che è importante che è il tempo di percorrenza di un'orbita o periodo per ciascuna classe di particelle scriviamo esplicitamente la velocità parallela che è quella che poi conta perché le particelle si muovono lungo le linee di campo in termini di questo parametro lambda e di altre quantità in particolare la velocità parallela si può scrivere in questa forma sigma v radice di 1 meno lambda b sub i 0 dove sigma è il segno della velocità parallela l'ho scritta, ho portato fuori questo sigma per poter esprimere la radice quadrata altrimenti ci sarebbe stata un'indeterminazione sul segno e dalla forma che abbiamo scelto diciamo la forma semplificata di b questa quantità si può scrivere a sua volta in questo modo quindi radice di 1 meno lambda 1 meno epsilon coseno di teta che è la famosa dipendenza angolare del campo magnetico allora perché ci serve questa espressione? per poter calcolare il periodo di un'orbita delle particelle indipendentemente dalla sua forma quindi che sia una particella circolante una particella intrappolata il periodo è dato da questa semplice espressione un'integrazione in dtheta di questa quantità l'integrale col pallino significa che l'integrazione va compiuta su tutta l'estensione angolare e b, questo b con il cappuccio è un vettore di modulo unitario che punta nella direzione del campo magnetico quindi è semplicemente un fattore geometrico ovviamente l'intervallo angolare su cui si svolge quest'orbita è diversa per le due classi di particelle le particelle circolanti coprono tutto l'angolo giro quindi tra zero e doppio greco invece quelle intrappolate stanno in una regione limitata nel lato esterno tra meno un teta b che b sta per bounce, è il punto di rimbalzo chiamiamolo così e più teta b è simmetrica rispetto all'asse orizzontale quindi in questo disegno al solito z è l'asse di simmetria quindi questo è il lato interno e questo è il lato esterno e ovviamente le orbite delle parcelle intrappolate si svolgono in questo settore angolare adesso l'integrale visto così non si sa fare però se si introduce quest'altro parametro che viene detto parametro di trapping proprio perché discrimina le due classi di particelle questo k quadro è questa combinazione di quantità che coinvolge epsilon e lambda in particolare k è maggiore di 1 per le particelle circolanti ed è compreso tra 0 e 1 per quelle intrappolate quindi è molto più intuitivo in termini di questo k il periodo si esprime in questo modo e qui sono state introdotte q che vedremo subito r che è la distanza toroidale e queste sono quantità che caratterizzano il moto della particella lambda, epsilon, abbiamo già viste e poi qui c'è l'angolare l'integrale sull'angolo e al denominatore compare questa radice di k quadro meno se in quadro e questo nel caso non lo riconosciate è un integrale ellittico quindi una classe di integrali un integrale completo tra l'altro che quindi si sa calcolare e se ne sa andare delle espressioni quanto meno approssimate q che era questa che compare questa quantità che compare al numeratore è il safety factor il fattore di sicurezza è una quantità che determina il grado di avvolgimento delle linee di campo ed è una funzione di flusso quindi può essere presa in un certo senso come indicatore della posizione radiale ed è data da questo rapporto tra quantità geometriche e le parentesi angolate sono un'operazione di media sulla superficie di flusso motivo per cui q è una funzione di flusso quindi non ha più dipendenza angolare perché la dipendenza angolare è stata integrata via e infatti la media sulla superficie di flusso è definita in questa maniera quindi a è una quantità generica e la sua media sulla superficie di flusso è questo integrale in dθ adesso il dettaglio di quanto di come si faccia effettivamente questo integrale non ci interessa ma sappiamo che questa media elimina la dipendenza angolare adesso andiamo subito a vedere qual è il succo di tutto ciò tau ha un'espressione che ricorda il periodo di un pendolo cioè di un pendolo dal momento che nel periodo del pendolo compare proprio un'espressione del genere con un integrale ellittico e in particolare distinguiamo questi due tipi di moti per k maggiore di 1 abbiamo le particelle circolanti che corrispondono a un moto di rotazione del pendolo quindi l'asta del pendolo ruota liberamente intorno al perno invece per k compreso tra 0 e 1 abbiamo la classe di particelle intrappolate che corrispondono al moto di oscillazione quindi il pendolo che oscilla tra due punti di massima elevazione quindi tra due angoli e come sappiamo dalla teoria semplicemente dalla meccanica del pendolo per k che tende a 1 il periodo del pendolo tende a infinito e lo stesso vale per il periodo delle orbite delle particelle grazie a tutti grazie a tutti